130 studenti provenienti da tutta Italia e anche dall'estero stanno seguendo le masterclass che animano il cuore antico della città. È così tornato il Monte San Savino Festival che offre a giovani musicisti la possibilità di lavorare al fianco di insegnanti qualificati in luoghi suggestivi e ricchi di storia come teatri, piazze e antiche dimore. L'importanza delle masterclass estive è fondamentale soprattutto per i ragazzi che intendono poi continuare gli studi in maniera professionale perché è un periodo di elezione nel senso che non ci sono gli impegni universitari, gli impegni in conservatorio o per chi frequenta i licei musicali gli impegni scolastici, quindi c'è molto tempo, c'è molta disponibilità anche mentale e quindi è un momento ideale per dedicare tempo, energie e il massimo impegno a questa attività. Tante anche le iniziative originali come il programma Music Lab, un laboratorio di musica d'insieme per strumenti ad arco rivolto ai giovanissimi dei 7 e 12 anni realizzato in collaborazione con la scuola di musica Cappetti. Abbiamo allievi che vengono proprio dalla nostra scuola ma anche altri che vengono da fuori, quindi è stata un'occasione molto, ed è un'occasione molto importante per coinvolgerli tutti insieme. Sabato 29 luglio la consegna delle borse di studio e poi alle 21.15 nella centralissima piazza Gamurrin il concerto dell'orchestra Gamme Sambla che ospiterà anche alcuni talentuosi studenti delle masterclass. È bello anche il modello che prevede comunque l'inserimento anche di concerti nell'ambito del periodo, concerti anche con musicisti e orchestre, soprattutto orchestre che vengono da fuori. Non tutti i festival o masterclass consentono anche questa possibilità.